Ed ora parliamo della campagna dell'Inail per il reinserimento al lavoro di persone che hanno avuto infortuni. Mauro Giovannini è un falegname di Pesaro tornato al lavoro dopo un'incidenza stradale. Ci racconta tutto Roberta Balzotti. Mauro Giovannini è uno dei soci lavoratori della vita di famiglia che a Pesaro produce elementi in legno. Nel 2006, mentre sta andando in falegnameria, ha un incidente stradale che lo costringe alla sedia a rotelle e all'uso limitato delle mani. Mi sono trovato a dover ricercare un ruolo nuovo dentro l'azienda perché manualmente e fisicamente non potevo più dare il mio apporto. Mi è venuta l'idea del pantografo e mano a mano sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio. Questo pantografo, l'ultimo, è stato cofinanziato dall'Inail con il progetto di reinserimento dei disabili sul lavoro. Con Inail ricomincio dal mio lavoro. È una campagna che testimonia il ruolo istituzionale dell'istituto attraverso un intervento di reinserimento che noi operiamo nei confronti dei nostri infortunati. Li prendiamo in carico dall'evento infortunistico fino a ricondurli a un pieno reinserimento lavorativo e quindi sociale. Le Marche sono una delle regioni che hanno una grandissima sensibilità nelle attività di reinserimento. Noi abbiamo realizzato 42 interventi di reinserimento. Nella falegnameria sono stati fatti anche lavori di adeguamento per abbattere le barriere architettoniche. Permettiamo anche ai datori di lavoro di realizzare quegli interventi di ragionevole accomodamento all'interno delle loro aziende affinché il lavoratore possa ripartire nel migliore dei modi.